E ora abbiamo un'intervista molto importante, molto importante al signor Vincenzo Capitano, Suvicinzo Capitano. Buongiorno Suvicidi, anni? Buongiorno, 83 anni fa a settembre. 83 anni, lui è rimasto l'unico antico, anziano, Vardonaro di Mazzareno. Com'è? Perché vos siete dedicato alla realizzazione di questi finimenti? L'ebbe il piacere mio papà che mi disse che il mio papà era Vardonaro, di che dottore. E mi disse che tu Vardonaro non è l'affare mai, perché i guai non hai visto il signore fu una chiovette dei guerri. 15, 18 e 45. Mi disse che tu ti imparavi un mistero che ti piace a te. E vos siete? E io mi imparavi un mistero che mi piace vedere queste cose belle, colorate e tutte cose. Capitano, ma è difficile fare questi finimenti? Certo che è difficile, ci vuole una passione, un tempo di chiedo speciale. E vos ce l'imparavi a fare questi finimenti? A me me l'imparavi veramente su Rosario, però... O su Rosario o Vardonaro? O Vardonaro Assolina, inteso Assolina, no, chiamato Assolina. O su Quarmono Bognano? Quarmono Bognano era figlioso di due emma, di Petra Pestia. Sì, e quindi hai imparato questa arte, che è un'arte artigianale. Questo che cos'è? Questa è una capizza, noi ci diciamo. Quanto ci vuole per realizzare una capizza di questo? Quanto tempo? Assai ci vuole. Ci avevo lavorato tutta una semanata. E non ha mai imparato questo mestiere a qualche giovane? Giovane, non si impara nulla, perché tanto noi, io non dava manco sordi per cattare una caramella. E gli era questo, gli era l'impegno che avevamo. Io un mattino che facevo un vecchio mastro, mastro di potiglia, tanto si chiamava. Sì? Io ero un finimondo. Nè, ma poi si chiamava Nè, non è. Un vecchio mastro, un bardonaro, mi fa sì. Insomma, era un'arte, un mestiere importante? Era un mestiere di che erano da lusso questo. Tutte le mestiere artigianali erano da lusso. Un bardone, per fare un bardone, cioè la sella del cavallo, quanto tempo ci vuole? Quando io ero giovane, io che avevo 19 anni, mi nascendo questo rosario, l'ognore non ne faceva uno, io e uno tanto gerace, che erano due di questo rosario. Com'è stata la sua vita, com'è la sua vita, signor capitano? La vita mia è stata sacrificata, che dopo che questo mestiere, gli veniva a nascere, che papà voleva che io mi metteva la poteca. Ci disse, papà, abbiamo sbagliato a tenerare. Il mestiere è buono e cose conti, io sono capace di farlo. Però, le viste vanno a tramontare, a tramontare. Siamo là a girare la pagina, andiamo a trovare. E si è dedicato a che cosa? Alla muratura. Un bravo muratore, signor capitano, molti... Sei anni, e dopo ho messo a fare muratore. Molti dei lavori nelle strade di Mazzarino sono stati realizzati anche con l'arte del signor capitano. E con questo noi concludiamo questa bella intervista. Cosa si aspetta dalla vita, signor capitano? Mai aspettare, mai aspettare. Io sono contento e orgoglioso di fare questo. Infatti, noi con la Lapa abbiamo un po' di fotografie, cose conti, se le volete vedere, ora ve le faccio vedere. Complimenti allora, signor capitano. Buona salute e lunga vita. Questa è la nostra bella e cara Mazzarino, la nostra gente. Vincenzo capitano di Mazzarino, Vardonaro numero uno. Grazie.